Esattamente quattro anni dopo il rogo della Eredi Bertè, Mortara torna ad avere paura a causa di un incendio. L'allarme scatta attorno alle 22 di lunedì sera in via Lomellina. La gente scende in strada e comincia a filmare con i telefonini, divulgando i video in rete e attraverso i social. Ad andare a fuoco il capannone di un gommista, la Mortara Gomme. I locali finiscono completamente distrutti, i danni sono molto ingenti. Le fiamme sono visibili anche a lunga distanza. Dai palanzi più alti della città arrivano segnalazioni. La paura è tanta anche perché a pochi metri di distanza dal gommista c'è una casa di riposo, la Fondazione Marzotto. Fortunatamente gli ospiti non corrono alcun rischio e non è stata necessaria l'evacuazione. L'aria nelle immediate vicinanze del rogo si è però fatta irrespirabile. Un odore acre a seconda delle direzioni del vento viene avvertito anche da molto distante. Sul posto convergono diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno ragione delle fiamme. L'incendio viene domato nel giro di un'ora, ma molto più tempo servirà per completare il lavoro e mettere in sicurezza l'area. Il giorno dopo è il momento delle indagini sulle possibili cause che al momento rimangono ancora ad accertare. In caso è stato preso in carico dai carabinieri che hanno acquisito le prime informazioni. Resta la conta dei danni assai ingenti e il contraccolpo sulla popolazione per l'ennesima notte di paura in Lomellina.